Che dobbiamo dire ragazzi? Che dobbiamo dire? Non me l'aspettavo, anzi ovviamente tutti ci aspettavamo una vittoria e c'è stata, e c'è stata sicuramente una buona prestazione della Juve, la prima partita di Motta, diciamo veramente buona la prima. Io ovviamente mi sono esaltato per uno scorso che ho fatto perché veramente, veramente ci siamo divertiti e finalmente, che dico finalmente, ci siamo divertiti a vedere la Juve giocare a calcio. A vedere un gioco, un gioco, una mentalità che prima non c'era, che era sparita dal DNA Juve con Motta. Anche se era contro il Como, a me ovviamente non interessa come tutti il risultato, però abbiamo visto almeno che i giocatori si sono divertiti a giocare a calcio e fare una buona partita. Partita una buona prestazione, reti, reti, tre reti fantastiche di Bagula, giocatore della Next Jam, sconosciuto, che prima con Allegri non sapeva neanche che esistesse. A parte che era allenato da Next Jam, comunque non sapeva neanche di avere giovani in rosa. Tre gol meritati, UEA strepitoso, un cambiaso che alla fine ha fatto un gol fantastico, fantastico anche lui. UEA che ha tirato una strafilata, palo e gol in linea, che ovviamente non si sapeva se era gol o no, comunque era regolare. Blauric che ovviamente ha fatto una discreta partita, diciamo che ha avuto tante occasioni da gol. A parte che adesso con Mota ha più spazio, ha più opportunità che i giocatori gli offrono palla per poter segnare. Abbiamo visto anche tante verticalizzazioni nelle fasce, proprio lanci lunghi e precisi nei stop. Un UEA che nella fascia, diciamo destra, diciamo sinistra, ok? Cioè quando prendeva la palla lui nella fascia c'era sempre pericolosità. E anche per non parlare di Edith, giocatore, diciamo, che ha preso in mano la Juve, l'ha presa e l'ha portata a spasso. Ha portata a spasso, l'ha disegnata come la voleva lui perché ha fatto tutto quello che doveva fare in campo. Cioè lui giostrava la palla, si metteva dove voleva lui, cioè scartava l'uomo, era veloce, proprio, non lo so, una Juve. Una Juve. Alla prima partita molto buona, molto buona sotto certi aspetti. Anche se non ci esaltiamo tanto per il Como, con il Como, anche se le partite più difficili saranno più avanti. Adesso la prossima partita l'abbiamo contro il Verona. Il Verona che ha battuto l'Inter 3-0. Però adesso tutte le squadre piccole si sono rinforzate. Rinforzate. A questo punto, ragazzi, Pionia, pensare alla prossima partita, anche se la Juve ha giocatori non buoni, buonissimi, da fare strada. Perché ha tanti giocatori giovani che si vogliono divertire e far vedere cosa valgono. Perché anche l'importanza di crescere. Non soltanto per il risultato, ma sinceramente noi vogliamo vedere solo la prestazione della squadra. Perché quello è l'importante. Fa vedere che la Juve è tornata. È tornata a guidare le redini di un allenatore che prima non c'era. Prima non era considerato da nessuno. C'erano un sacco di problemi. All'atto dirigenziale. Adesso ci sta capovolgendo tutta la situazione in casa di Juventus. Con i nuovi innesti. Adesso aspettiamo i 4 acquisti. Comotta ha fatto delle sostituzioni giuste, ragionate. E ha messo la voglia ai giocatori di buttare fuori le loro caratteristiche più in linea con il suo gioco. Che prima non c'era assolutamente niente. Io, ragazzi, sono contento. Sono contento della prestazione. Anche se mi sono un po' esaltato nello shorts. Però è anche bello divertirsi e fare un applauso a Motta che ha preso in mano una Juve e l'ha un po' resa disponibile per un cammino futuro migliore. Perché a noi tifosi mancava l'entusiasmo. Mancava l'entusiasmo di vedere giocare a calcio. E con Motta ci sarà da divertirsi. Ci saranno qualche difficoltà, alcune sconfitte. Ma questo è il gioco del calcio. Però almeno perdi a testa alta. Abbiamo visto una squadra che ha corso per 90 minuti. non abbiamo visto, perlomeno per adesso, stanchezza, diciamo. Abbiamo visto un pochettino di errori, ma... di errori normali, di inserimento, di... però abbiamo visto almeno che ognuno seguiva il proprio giocatore quando c'era da fare un contropiede o inserirsi. Anche con i cross hanno più inserimento anche nel sapere dove posizionarsi anche per tirare in porta. Che finalmente abbiamo visto dei tiri in porta. giocatori che volevano esserci, volevano contribuire alla squadra. L'hanno fatto. L'hanno fatto grazie a Motta. E niente ragazzi. Non voglio dilucarmi più di tanto. Non voglio elogiare tanto perché abbiamo vinto con il Como. le partite più difficili sono più avanti. Però abbiamo visto una prestazione diversa. Abbiamo visto una prestazione molto convincente al contrario di Allegri. Allegri non era un allenatore. Era un elemento messo là. Però non sapeva contribuire a niente perché non era appoggiato da nessuno. Motta finalmente è un comunicatore. Appunto questo è importante per la squadra e per la voglia di di essere la Juventus che tanto noi andavamo in cerca. Bene ragazzi. Per questa lunga analisi io vi saluto. Iscrivetevi al canale se volete. Mettete mi piace ma soprattutto condividete che è importante la crescita del canale. Fate girare questo video. E niente ragazzi. Bella partita. Buona prima per Motta. e speriamo una bella annata una bella annata di di conquiste ma anche di ma anche di sconfitte che quello è importante quello è importante nel lato di sapere cosa la Juve la Juve sbaglia in diversi frangenti durante la partita potrebbe essere anche dei alti bassi però diciamo che la Juve ormai ha fatto un po' di fondamenta su quello che Motta ha visto che può migliorare ancora di più e c'è la c'è la volta c'è la volta giusta e la strada è giusta ok va bene ragazzi ciao ragazzi ci sentiamo alla prossima va bene sempre sempre dai e finalmente diciamo forza Juve oh finalmente una 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 bella una bella eh aria fresca ok ciao ragazzi